in silicone e plastica rigida per questo ha quell'affetto che sembra reale questa armatura dopo l'animazione della fenice che viene fatta col computer, il fuoco pure quando ritorna di nuovo sul set che deve combattere, lì siamo all'aperto e diciamo tutto quello poi che accade rientra negli effetti speciali perché alla fine comunque stanno usando diciamo dei prodotti diciamo scenici il suo lavoro sappiamo è per i cosplayer, il costume così costa almeno 3500 4000 euro voglio dire è abbastanza esoso la passione si paga è normale